Grazie a tutti. I giorni al centro della discussione nel Partito Democratico c'è sostanzialmente solo la scissione e gli out-out di maggioranza e minoranza del partito. L'apertura di Emiliano all'ex premier apre scenari di apertura per i militanti. Questo è il lavoro che deve fare il segretario, rimettere insieme i cocci di anni difficili per ripartire insieme. Senza questo lavoro le distanze politiche tra noi sono troppo grandi, ha ricordato Emiliano, e non basterebbe una conta per evitare anche a breve nuovi dissenze e nuovi rischi di conflitto. Diamoci una possibilità, ha concluso lo stesso Emiliano.